Una partita combattuta sicuramente dal protagonista di questa partita, quali sono le tue impressioni della gara? Allora, la gara penso sia stata sofferta sia dal campo che da fuori. Monza è una squadra molto forte e dovevamo interpressione tutto il tempo perché comunque hanno delle individualità molto forti. Sono contenta del lavoro che abbiamo fatto noi in Muro Difesa perché il loro muro è fortissimo. Penso che le pale che gli abbiamo coperto e riattaccate gli abbiano tolto un po' di certezza, quindi sono proprio contenta. Come si è sviluppato è stato crescendo durante il match. Invece di questo campionato sulla base delle partite giocate e sulle aspettative future, come lo vedi? Penso sia di altissimo livello e che già l'andata sarà molto diversa dal ritorno. Comunque molte squadre sono nuove e devono trovare un po' gli equilibri. Quindi penso che nella prima parte dei gironi ci dobbiamo accontentare di fare punti, quanti più possibili ovunque. e la seconda parte del campionato compresa di Coppa Italia sarà per andare a giocare qualcosa di importante. Grazie, grazie mille.